vettura stupenda oggi alla tucar mercedes ml 350 blu tech 4matic cambio automatico immatricolata febbraio del 2014 rispetto alla normativa euro 6b versione premium super super accessoriata solo due proprietari 107 mila chilometri la vediamo fuori colore bianco metallizzato full optional come detto versione premium cerchi lega da i'm gay da 21 pollici tetto apribile fari big seno dei light a led sensori di parcheggio anteriori posteriori retrocamera andiamo a vedere nel suo vano bagagli portellone elettrico vanno bagagli super capiente possibilità di abbattere i sedili due terzi un terzo seduta posteriore quattro vetri elettrici questi sono gli interni in tessuto tessuto alcantara misto pelle attacchi isofix posteriori quattro vetri elettrici specchietti elettrici specchietti abbattibili elettricamente sedili elettrici regolabili da qui ecco qua la seduta anteriore tenuto veramente in ottime condizioni bracciolo entriamo accendiamo la vettura ecco qui il chilometraggio come detto 107 mila i comandi della radio e del navi e del cellulare al volante questo è il suo cambio automatico 7g 7tronic cruise controller regolatore di velocità luci automatiche qui abbiamo invece il navigatore satellitare a colori con la retrocamera adesso la proviamo ecco qui la retrocamera i comandi del navigatore della radio del cd sedili riscaldabili antipattinamento regolazione dei sensori di parcheggio clima automatico aeromatico bizona che abbiamo invece i comandi del del navigatore i comandi delle sospensioni sport oppure comfort con l'abbassamento dell'inalzamento della vettura dsr strade accidentate inoltre abbiamo il qui vediamo qui il tettuccio elettrico con tendina ecco il suo bellissimo tettuccio elettrico veramente molto difficile a trovare su questa vettura diamo un attimo sguardo fuori bene questo mezzo lo trovate alla tuccar noi siamo a pavia in via solferino al numero 68 vi aspettiamo grazie a tutti